Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Continuiamo a parlare dei teoremi, in particolar modo i teoremi sui quadrilateri particolari. Iniziamo con tutti i quadrilateri più importanti che ci possono servire anche nella risoluzione degli esercizi. Partiamo proprio con il teorema sul trapezio. In questo caso prendiamo un trapezio isoscele. Infatti il teorema ci dice che se un trapezio è isoscele, allora gli angoli adiacenti alle basi sono congruenti. Al tempo stesso anche le diagonali sono congruenti. Quindi che cosa vuol dire? Che gli angoli alle basi, quindi sia sulla base maggiore sia sulla base minore, sono a due a due congruenti. Quindi i due angoli alla base maggiore, quindi quelli in basso, sono congruenti tra loro, infatti avevano lo stesso colore. Al tempo stesso anche gli angoli adiacenti alla base minore, quindi quelli in alto, sono entrambi infatti colorate in arancione, proprio perché sono congruenti tra loro. Al tempo stesso però in un trapezio isoscele, ricordiamoci che affinché sia un trapezio isoscele deve avere i due lati, quindi le due basi devono essere parallele tra loro e i due lati sono obliqui, congruenti. Il teorema ci dice proprio che se avvengono tutte queste caratteristiche, allora anche le diagonali sono congruenti tra loro. In questo teorema però vale anche l'inverso, ovvero, riguardiamo un attimo l'immagine. Se in un trapezio gli angoli adiacenti alle basi sono congruenti, allora il trapezio è isoscele. Al tempo stesso però possiamo dire che se in un trapezio le diagonali sono congruenti, allora il trapezio è isoscele. Quindi possiamo dire che un trapezio è isoscele anche tramite queste caratteristiche fondamentali indicate proprio dal teorema. Invece, il teorema sul parallelogrammo. In un parallelogrammo i triangoli in cui esso viene diviso da una diagonale sono congruenti. Quindi prendiamo il nostro parallelogrammo, andiamo a tracciare una delle due diagonali, possiamo vedere che il triangolo che si è formato a sinistra e a destra di questa diagonale sono congruenti tra loro. Perciò abbiamo inserito il cerchietto in giallo all'interno dei due triangoli. Al tempo stesso però un'altra caratteristica del parallelogrammo e di questo teorema ci dice che i lati opposti sono a due a due congruenti. Quello sopra e quello sotto sono congruenti e paralleli, quello a sinistra e quello a destra sono paralleli e congruenti tra loro. Perciò si dice anche che i lati opposti sono a due a due congruenti. Ulteriore caratteristica, gli angoli opposti sono a due a due congruenti. Quindi l'angolo in alto a sinistra è congruente all'angolo in basso a destra e così via. L'angolo in alto a destra è congruente all'angolo in basso a sinistra. Quindi gli angoli opposti, ovvero quelli che si trovano ai vertici opposti del nostro parallelogrammo, sono congruenti tra loro. Inoltre le diagonali si incontrano nel loro punto medio. Quindi vorrà dire sicuramente che i due pezzettini che si formano, anzi i quattro pezzettini che si formano dall'incrocio di queste due diagonali, sono congruenti a due a due. Ulteriore caratteristica è che gli angoli adiacenti a ciascun lato sono supplementari. Ovvero che cosa vuol dire? Che la loro somma, quindi la somma dei due angoli che si trovano in basso, deve dare proprio 180 gradi. Così come la somma degli angoli quelli in alto. Quindi in alto a sinistra più l'angolo posizionato in alto a destra deve dare sicuramente un angolo di 180 gradi. Quindi gli angoli devono essere supplementari a due a due. Però oltre al teorema sul parallelogrammo esiste anche il teorema inverso che è molto simile. Ovvero se un quadrilatero ha tutte le caratteristiche che abbiamo detto anche nel teorema di prima, ovvero i lati opposti a due a due sono congruenti, gli angoli opposti a due a due sono congruenti, le diagonali che si incontrano nel loro punto medio, oppure gli angoli adiacenti a ciascun lato supplementare, oppure due lati opposti, congruenti e paralleli, allora il quadrilatero è un parallelogrammo. Quindi tutte le caratteristiche che avevamo visto prima nel teorema sul parallelogrammo, semplicemente stiamo dicendo che affinché noi possiamo dire che questo quadrilatero è un parallelogrammo, allora deve avere almeno una di queste caratteristiche. Infatti nel teorema inverso vi è la dicitura oppure, quindi può avere solo una di queste cinque caratteristiche, affinché noi possiamo subito dire che il quadrilatero è proprio un parallelogrammo. Spero che finora i teoremi che abbiamo visto sui quadrilateri siano chiari, se avete qualsiasi dubbio scrivetemelo pure sotto nei commenti. Gli ultimi due teoremi che però rimangono sono quelli relativi al rettangolo e al rombo. Infatti il teorema sul rettangolo dice che in un rettangolo le diagonali sono congruenti, quindi prendendo un generico rettangolo, tracciamo le due diagonali, questi sono congruenti tra loro. Vale anche l'inverso, ovvero se un parallelogrammo ha le due diagonali congruenti, allora subito possiamo dire che questo quadrilatero è un rettangolo. E infine vi è il teorema sul rombo. Ricordiamoci che il rombo deve avere i lati tutti congruenti tra loro, ma sono a due a due paralleli tra loro. E inoltre gli angoli che si formano tra i quattro lati non devono essere angoli di 90 gradi, anche perché altrimenti ci troviamo proprio nella situazione di un quadrato, anche perché anche il quadrato ha i lati tutti congruenti, sono a due a due paralleli, ma gli angoli che si formano tra i vari lati sono angoli di 90 gradi, cosa che nel rombo non deve succedere. E il teorema sul rombo dice proprio che in un rombo le diagonali sono perpendicolari tra loro, quindi se noi tracciamo le perpendicolari all'interno di un rombo, sicuramente questi formano quattro angoli di 90 gradi. E inoltre le diagonali sono anche bisettrici degli angoli interni, ovvero che cosa vuol dire? Che gli angoli che si formano sono due a due congruenti, ma vale anche l'inverso, ovvero se in un parallelogrammo le diagonali sono perpendicolari tra loro, oppure, quindi anche qui può succedere o l'una condizione o l'altra condizione, quindi devono essere o perpendicolari tra loro, oppure sono bisettrici degli angoli interni, quindi formano i due angoli congruenti tra loro, allora sicuramente il parallelogrammo è un rombo. Quindi con questo abbiamo visto tutti i teoremi fondamentali che riguardavano i quadrilateri, in particolar modo abbiamo visto il rombo, il rettangolo, il trapezio e i soscele e il parallelogrammo. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se così non vi dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi al canale se siete nuovi. Noi poi ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo argomento. Ciao! 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 Ciao!